Il dottor Paolo Pasquali, medico chirurgo odontogliatra, per presentare questo progetto Prevenzione Salute, focus sulle malattie tumorali, tanti interventi per capire di più e meglio grazie appunto a degli specialisti che cosa si può fare e soprattutto come si può prevenire anche che tipo di stili di vita avere. Abbiamo pensato questo progetto proprio perché la prevenzione è l'unica lotta, l'unica arma che abbiamo per lottare contro questa malattia, la malattia del secolo, proprio in questo mese, mi sembra, è il mese della prevenzione in tutta Italia per la lotta ai tumori, quindi noi del centro medico SITI abbiamo pensato di organizzare un paio di incontri dove incontreremo i maggiori esponenti del nostro centro per parlare proprio di prevenzione e arrivare il più possibile a una diagnosi precoce che è l'unica arma che ci può far sopravvivere. Quindi anche noi dal punto di vista montogliatri abbiamo delle grosse novità, ma novità ce le aspettiamo anche dai colleghi che ci parleranno di tutti i settori. In questi due incontri la prima parte è dedicata un po' più all'uomo dove fa da primo esemplare è il tumore al polmone che è ancora la prima causa di morte per malattie tumorali, poi per la prostata e per malattie gastrointestinali, insieme alla paratologia orale che rappresenta un'arma nuova e preoccupante. È una grossa preoccupazione nel nostro settore perché l'aumento di queste neoplasie stanno causando veramente delle stragi. Mentre nel secondo incontro, che si rincontreremo a marzo, proprio nei giorni successivi alla festa della donna, vogliamo dedicare questo momento proprio alle patologie che affliggono di più la donna, quindi dal seno è in malattie urogenitali, a nevi, malattie dermiche, la tiroide e un altro aspetto sempre dal punto di vista odontoiatrico dell'oncologia odontoiatrica estetica, cioè in qualcosa porteremo qualcosa di nuovo. Diagnosi precoce e poi anche gli esami, le novità in campo diagnostico. Sì, insomma c'è movimento e la cosa che è molto importante è proprio far conoscere alle persone che quando si sta bene bisogna andare a fare prevenzione. È difficile perché è un momento difficile, chiaramente quando uno sta bene non vuole ricorrere al medico, però è stato visto che è importante creare in un paziente il tipo di rischio che può avere per certe patologie. In base a quello avere un protocollo personale, individuale, che possa essere tranquillo per i suoi anni, per evitare e se poi non può evitarlo, ma rifare un diagnosi più precoce possibile per poter lottare per la sopravvivenza. È vero che è una malattia che spaventa sempre, ci sono però anche notizie positive che arrivano proprio dai casi di guarigione o comunque di un percorso che a livello medico, sanitario o anche ospedaliero si può fare e quindi è importante far passare messaggi positivi. Sicuramente, questo è importante perché proprio sono stati fatti passi da gigante proprio per quando riguarda terapie chirurgiche, terapie mediche. Ci sono novità per le terapie immunologiche. Vorremmo sapere proprio da questi specialisti che cosa porteranno di nuovo, anche dal punto di vista diagnostico, i test genetici, insomma tante novità che però è importante che i pazienti conoscano queste gare e la diffusione attraverso i mezzi di comunicazione è proprio un dovere per noi medici, probabilmente perché dobbiamo sensibilizzare la popolazione proprio a questo. Sarà attente anche alle fake news, le notizie false oppure farsi un autodiagnosi, arriveranno qualcuno da voi che magari si dice il dottor Wikipedia, no? Sì, oggi c'è un pochino questa paura di farsi la medicina personale, però noi vogliamo proprio con questo argomento cercare di arrivare nelle famiglie e stare più tranquilli perché la prevenzione è solo l'unico modo per poter sopravvivere a questa che è la malattia del secolo, purtroppo. Come un po' per tutte le neoplasie, la prevenzione si articola in due grandi capitoli, la prevenzione primaria e la prevenzione secondaria o diagnosi precoce. La prevenzione primaria consiste in tutti quegli interventi che servono a ridurre l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio, quindi cercare in tutti i modi di evitare che i giovani si accostino all'abitudine tabagica, far smettere chi già sta fumando, proteggere anche la popolazione che non fuma, dai rischi legati al fumo passivo e poi prevenire anche l'esposizione a altri fattori di rischio diversi dal fumo perché ce ne sono sicuramente anche di altri diversi dall'abitudine tabagica e comunque rimane di gran lunga il più importante tra i fattori di rischio. Le novità maggiori forse le abbiamo nel campo della diagnosi precoce. La diagnosi precoce che mai non può essere più intesa in senso tradizionale, cioè l'individuazione della malattia nelle sue fasi iniziali basandosi sulle prime manifestazioni, sui primi sintomi, sui primi segni della malattia. Perché purtroppo il tumore del polmone è una cosa piuttosto spiacevole, è il fatto che quando già i primi sintomi sono comparsi purtroppo la malattia è già in una fase avanzata e al di fuori dell'operabilità o comunque la possibilità di intervento si accompagna poi a delle probabilità di successo molto più bassi. E quindi dalla diagnosi precoce, intesa in senso tradizionale, dobbiamo arrivare a una diagnosi ultra precoce, cioè cercare di individuare la malattia quando ancora non ha dato le sue manifestazioni. E quindi il concetto dello screening del tumore del polmone. E appunto ci sono novità in questo senso perché negli Stati Uniti già da un anno lo screening è passato dalla fase degli studi clinici controllati alla fase della realizzazione pratica e le assicurazioni statunitense, Medicare, danno la rimborsabilità per lo screening che è condotto con l'attacca a basso dosaggio, come si dice. E in Europa probabilmente nei prossimi anni avverrà lo stesso e quindi anche in Italia dovremo sentiremo parlare di screening del tumore del polmone e forse lo vedremo affiancarsi a quelli che sono gli screening, già attualmente il screening del tumore della mammella, del colon e del collo dell'utero. Il problema sarà la sostenibilità perché purtroppo i costi sono molto alti. Sì, è importante moltissimo fare attenzione a tutti quelli che sono i piccoli campanelli d'allarme che portano appunto da un'agnosi precoce della malattia. Naturalmente quello che è importante è poi concentrarsi su uno stile di vita adeguato e naturalmente su quella che è la diagnostica, diagnostica strumentale e lavoratoristica principalmente. Quindi tratteremo appunto tutti gli aspetti della patologia orologica a 360 gradi e vedremo un attimino di confrontarci con appunto la platea. Quando si dice di agnosi precoce c'è un'età nella quale si può fare già un primo esame? Sicuramente per quanto riguarda appunto la patologia neoplastica della prostata, diciamo che le linee guida ci dicono che oltre i 50 anni sicuramente una visita orologica con un monitoraggio annuale almeno del PSA è fondamentale. Sicuramente se parliamo di familiarità di tumore di prostata bisogna anticipare ai 45 anni, sicuramente. E ho deciso di trattare più che altro il tumore del colon e del retto che tra le patologie gastroenteriche è sicuramente quello di maggiore interesse sia perché l'incidenza sta aumentando sia nelle donne che nei maschi sia perché comunque si tratta ad oggi del tumore migliormente che è più prevenibile e curabile soprattutto se la diagnosi è precoce e soprattutto bisogna eseguire comunque dei corretti screening perché questo sia possibile. Naturalmente in questo caso si parla anche di corretta alimentazione, quanto incide uno stile di vita più salutare possibile? Sì, di corretta alimentazione, corretto stile di vita e soprattutto l'esecuzione di test diagnostici poi in maniera regolare in modo tale che si possesse effettuare non solo la prevenzione ma anche la diagnosi precoce. Test diagnostici, togliamo anche qualche dubbio, sono dolorosi? Come sono? Alcuni possono essere un po' fastidiosi ma quelli iniziali, soprattutto i test di screening non lo sono e devono essere soprattutto eseguiti da una fascia di popolazione ben mirata che è soprattutto quella che comprende individui dai 50 ai 69 anni di età. Grazie a tutti!